magico ciao a tutti ragazzi io sono sempre il magicolo e benvenuti in deep hunter 2 questo gioco in cui dovremo raccogliere monete per terra no scherzo ragazzi questo gioco saremo un esploratore subacqueo che ovviamente adesso ci porterà a raccogliere queste monetine per terra ok il primo è andato questa è una tartaruga non la pigliamo se non ci arrestano poi è scappato dobbiamo anche stare attenti perché i pesci sono molti eccoli qua allora abbiamo catturato due pesci benissimo abbiamo un po così non dobbiamo pensavo di essere morti ok andiamo subito su come vedete anche fuori è fatto molto molto bene un simulatore molto realistico e adesso dobbiamo catturare due specie diverse ok uno l'abbiamo preso e due no non era questo vediamo se è questo ok ce ne mancano due ragazzi dobbiamo fare molto piano come vi ho già detto no non dovrebbe essere questa no ok ci si confondono a volte eccolo qua uno l'abbiamo preso ok ci manca l'altro di quell'altra specie che non ho ancora capito qual è sembra questo sembra no non è questo però lo piglio lo stesso no neanche ok cerchiamo un po in giro ragazzi vediamo se è uno di questi potrebbe essere uno di questi non credo proprio non credo proprio non credo proprio forse è questo no questo qua è troppo grosso non va bene ragazzi aspettate un attimo mi sembra di averlo visto forse è qua forse è uno di questi ecco forse non è uno di questi cazzarola l'ho preso prima all'inizio forse è questo ma dove cavolo è questo è questo lo so lo so è questo sei tu ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo sei mio e vai preso grandissimo ragazzi abbiamo recuperato una chiavetta usb incredibile ragazzi tutto sto casino per una chiavetta usb in fondo al mare allora adesso ok devo trovare l'antico segnale oh e basta allora ci dovrebbe essere un qualcosa che mi indica l'antico segnale eccola ok corriamo verso madonna sono già stanco ragazzi piano piano calmo calmo ecco arrivato a questo segnale dovremmo dovremmo trovare questo piatto di bronzo d'argento come cavolo si chiama forse l'ho già trovato cosa sono un granchio un granchio un granchio vediamo un po allora qui ci sono tutte monete quindi dovrebbe essere qui vicino spero dovrebbe essere qua vicino ragazzi eh attenzione ragazzi 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 che cazzo è non lo so madonna madonna ma è un casino non lo troverò mai ma dove cazzo ah ma mi sono allontanato troppo mannaccia la miseria ok ok piano perché va su allora no ho fallito la missione ma come cazzo tu sei sono morto vabbè dai ragazzi ci vediamo al prossimo gameplay sono morto veramente non ci credo ciao a tutti